Ciao ragazzi, volevo farvi un grandissimo in bocca al lupo per gli esami di maturità. So che alcuni di voi sono un po' in pensiero perché è stato un anno scolastico particolare e perché le modalità d'esame sono diverse dal solito. Cercate, mi raccomando, di non preoccuparvi troppo e ricordatevi che in commissione ci sono professori che vi conoscono e che faranno tutto il possibile per mettervi a vostro agio durante la discussione. Buona fortuna, date il massimo!